miscuglio europa pr oggi siamo in provincia di bantova a valutare il miscuglio europa pr il nostro cliente miscuglio cereali più loietto loietto a tutti gli effetti con dei cereali all'interno notiamo che i cereali l'han tenuto tutto in piedi loietto il miscuglio sarà pronto da fare verso la metà della settimana prossima e risulta essere tutto 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 pari e in piedi roba ce n'è tantissima tutta sana sin da sotto tutta sana è bella miscuglio europa pr piantato da circa 15 giorni vediamo il frumento l'hoietto quello più sottile della vena un miscuglio strutturato per fare il fieno e la maggior parte è l'hoietto i due cereali in fanno da impalcatura in modo che non si alletti e l'abbiamo studiato per avere una rapidissima essiccazione quindi fa dal fieno a un ciclo medio tardivo quindi viene verso i 10 15 di maggio è tutto pari pari uniforme vedremo a maggio che gran fieno verrà fuori grazie 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 grazie